Siamo tutti impegnati nella ricerca della felicità, ma la felicità va di pari passo con l'equilibrio. Per capire come equilibrare la tua esistenza e quindi come trovare la felicità, ti propongo sette domande che ti possono guidare. A volte cerchiamo di convincerci che la nostra vita sarà migliore dopo, ma dopo cosa? Noi rimandiamo alla felicità dicendo, beh, ma in futuro succederà qualcosa, oppure io posso essere felice se mi sentirò meglio dopo che, ma dopo cosa? Dopo il matrimonio, la nascita dei figli, la nuova automobile, la nuova casa, le prossime vacanze, la pensione, le elezioni, la fine del mondo? C'è qualcuno che pensa che bisogna cambiare il mondo, fare piazza pulita di tutto per poter stare bene, ma è proprio così. Io non credo. In realtà, dopo scopriamo che il matrimonio ci stressa, i figli sono difficili da crescere, la nuova auto e la nuova casa costano parecchio, le vacanze non hanno risolto i nostri problemi, la pensione arriva troppo tardi, le elezioni non ci hanno reso più felici, la fine del mondo non è la risposta per vivere. Quindi, quando noi speriamo che dall'esterno ci sia qualche cosa che possa tirarsi sul morale, in realtà stiamo commettendo una serie di sbagli. Vediamo di capire perché. La verità è che non c'è momento migliore di adesso per essere felici. Se non ora, quando? Perché rimandare la tua felicità? Non ha senso. Se viviamo aspettando che dopo arrivi il bello, ci illudiamo che la vita stia per sbocciare, ma qualche ostacolo impedisce sempre la fioritura, le cose non funzionano come vorremmo e allora il dopo diventa un dopo più dopo, più dopo, sempre più in là. No, non è questa la strada. Quando capisci definitivamente che ci sono sempre ostacoli sul tuo percorso, hai due alternative. O rinunci ad essere felice, oppure decidi di essere felice lungo il tuo percorso. Questa è la scelta più saggia, ma tante persone rinunciano perché non hanno un piano, non si addestrano, guardano che cosa fanno gli altri che inciampano e cadono e si convincono che tutti debbano inciampare e cadere. Ma non è così. Tu puoi decidere di essere felice lungo il tuo percorso. Non c'è una via protetta che porta alla felicità, ma tu puoi rendere felice il tuo cammino. Quindi se ti aspetti delle ricette, degli aiuti, delle cose che funzionano in automatico, ti stai sbagliando. Se pensi che ci sia un oasi dove tu puoi stare perennemente rifugiato, ti stai sbagliando. Ma tu puoi diventare più abile e quindi puoi rendere più felice la tua esistenza. Smetti di aspettare di essere felice dopo che hai finito la scuola, oppure riprendi l'università, hai perso 10 chili, hai dei bambini, i bambini sono cresciuti, i figli si sposano, vai in pensione, divorzi, arriva il venerdì sera, oppure la domenica mattina arrivano le vacanze, hai finito di pagare le rate, esci con gli amici, vedi un bel film, ti capita una bella sorpresa? Tutte queste condizioni che tu stabilisci per essere felice sono enormi ostacoli che di fatto ti impediscono di essere felici. Più ti circondi di belle occasioni per stare bene, in realtà tu stai ammettendo che non sei capace di stare bene e che hai bisogno di nuove occasioni, di nuovi stimoli, ma non bastano mai perché gli stimoli sono inferiori al bisogno, alla fame di felicità che tu hai. Per forza sono inferiori perché tu non stai controllando la tua felicità, il tuo equilibrio e dipendi da quello che capita. Per uscire da questo modo sbagliato, distruttivo di concepire la felicità, ti propongo un esercizio. Prendi penna e carta, meglio un quaderno. Ti consiglio un quaderno piuttosto che un foglio, perché è un foglio molto provvisorio, potresti perderlo. Molto meglio che tu scriva su un quaderno e il quaderno è più robusto, puoi rileggerlo e puoi scrivere molto di più che su un foglio. Per trovare la felicità e l'energia in un mondo che combatte contro di noi, devi trovare la soluzione dentro di te. Questo esercizio ti aiuta a trovarla e per questo ti consiglio di scrivere così fissi sulla carta le tue migliori intuizioni che leggerai e perfezionerai molte volte. Non ti aspettare che questo esercizio lo fai in 5 minuti, poi lo dimentichi, oppure chissà in 5 minuti deve arrivare il miracolo. No, tu devi costruire la tua felicità, devi trovare il tuo equilibrio. Questo esercizio ti aiuta a trovare la soluzione dentro di te. 2. Scrivi le tue risposte perché andrai a rileggerle e perfezionerai le tue risposte molte volte. Ecco 7 potentissime domande che fanno affiorare le tue motivazioni e che stimolano le tue intuizioni. Scrivi ogni domanda su una pagina e lascia molto spazio sotto per aggiungere le tue risposte. Quindi prendi queste domande ma non scriverle di seguito con una paginetta, mezza paginetta, no. Lascia anche 3, anche 10 pagine perché sono domande potentissime che ti portano a trovare l'equilibrio, la felicità e le tue motivazioni. E man mano che scriverai con la penna, non al computer, ma proprio con il tuo gesto manuale, tu arriverai a mettere in moto un livello di pensiero di concentrazione decisamente superiore e decisamente utile. Ecco la domanda numero 1. Per quali motivi mi voglio impegnare e agire? Qui devi domandarti se veramente tu vuoi vivere per arrivare alla fine della scuola o vuoi vivere per sposarti o vuoi vivere per arrivare alla pensione. Quali sono i risultati per cui ti vuoi impegnare e agire? Questa è la prima domanda. Risultati che ti rendono veramente felice e soddisfatto. Domanda numero 2. Come posso modellare il mio futuro? Questa è una domanda che ti dà molta responsabilità, che mette l'attenzione sulle tue capacità. Tu puoi modellare il tuo futuro. Come? In quale modo puoi riuscirci? Domanda numero 3. Come devo pensare per sentirmi felice e migliore? Qual è l'atteggiamento mentale giusto? Qual è l'attitudine che mi permette di sentirmi felice e migliore? Quali sono i pensieri che mi conviene ospitare nella mia mente? Domanda numero 4. Che cosa posso fare oggi per creare il mio futuro? Azioni immediata, adesso, nella direzione del futuro migliore. Domanda numero 5. In quali modi aumento le mie abilità e quello che so? Quello che io so, quello che io sento è sufficiente come punto di partenza ma devo migliorare, devo essere molto più abile, molto più capace di controllare e vincere le varie situazioni. Domanda numero 6. Come posso prendere il controllo totale della mia vita? Quindi non soltanto i pezzi marginali lasciando le decisioni importanti alla routine a chi ha stabilito quanto io devo essere felice. No, io devo prendere il controllo totale della mia vita, devo guidare la mia esistenza senza farla sbandare. Infine, importantissima domanda numero 7. Che cosa mi succederebbe se non cambiassi nulla nella mia stressante esistenza di adesso? Prima di andare a finire contro il muro, prima di cadere nel burrone, domandati che cosa ti succederebbe se tu non cambiassi nulla, se tu dimenticassi le occasioni che hai, ad esempio questo esercizio e tantissimi altri stimoli che ti possono cambiare la vita. Cosa succederebbe? Quale sarebbe il tuo futuro? Ce l'hai ben presente? Se oggi sei stressato, come finiresti se tu continuassi sulla tua via stressante? Rispondi a queste domande per iscritto. Rileggi e aggiorna spesso le tue risposte. Una vita equilibrata e felice inizia dal significato che tu dai alle parole equilibrio e felicità. La definizione che tu dai a queste parole, le tue aspettative che tu coltivi dentro queste parole determinano la felicità che raggiungi. Rileggi le tue risposte, ecco perché devi scriverle. Mettici dei giorni, mettici delle settimane. È molto importante che tu vada a fare per iscritto questo esercizio. Qualcuno ha detto non preoccuparti di sapere qual è la vita migliore, piuttosto vivi al meglio la tua vita. Ecco un buon consiglio, metti la tua esistenza in funzione di ciò che tu sei, costruisci la tua esistenza per esprimere ciò che tu sei e vivi al meglio i tuoi sogni, esprimi i tuoi sogni. Non preoccuparti di sapere che cosa fanno gli altri grandi personaggi. Tu devi essere al meglio di te stesso onestamente, devi trovare il tuo equilibrio, questo è fondamentale. Quando hai il tuo equilibrio e quando tu vuoi manifestare i tuoi sogni, quella è la via che ti porta alla felicità, è una via che costruisci tu man mano che la vivi. Sei tu la felicità.